Un'indagine condotta dalla procura di Catanzaro, denominata Scirocco, ha portato alla luce un presunto coinvolgimento di un'associazione a delinquere nella gestione illegale di gran parte del sistema di depurazione in Calabria. I pubblici ministeri Paolo Sirleo, Domenico Guarascio e Domenico Assumma hanno richiesto il rinvio a giudizio per 28 persone e 5 società. Il giudice per le udienze preliminari, Arianna Roccia, ha programmato l'inizio dell'udienza preliminare per il prossimo 12 giugno, presso l'aula bunker di La Messia Terme. In quella data, 26 parti lesionate e individuate dalla procura, tra cui il Ministero dell'Ambiente, la Regione Calabria, varie province e comuni, avranno la possibilità di costituirsi parti civili. Tra loro, che rischiano il processo, ci sono Tommaso Agretto di Catanzaro, Davide Bartucca di Filadelfia, Giuseppe Bongarzone, Pasqualino Calabrese di Belvedere Marittimo e molti altri. Le società coinvolte includono Labova Costruzioni SRL, GED Ecologica S.P.A., Minieri Holding S.R.L., Minieri King Elettrica S.R.L., Minieri Ecologistica S.R.L.